Oggi vediamo qualche altra puntualizzazione sull'uso delle funzioni, in particolare l'utilizzo della parola return. Iniziamo subito. Nelle funzioni che abbiamo utilizzato finora, abbiamo utilizzato l'istruzione return per restituire qualcosa. Quindi all'interno del corpo della funzione troverete questo return. Quando si restituisce qualcosa, il tipo che mettiamo davanti alla nostra funzione deve indicare quello che restituiremo. Quindi abbiamo int, fun, qui parametri, il corpo, da qualche parte avremo questa return che ritorna un tipo compatibile con quanto indicato, per esempio return 0. Quanti return posso avere all'interno del corpo di una funzione? Quanti ne voglio? E il return, l'invocazione return, provoca l'uscita immediata dalla funzione. Quindi ne posso mettere anche qualcun altro qui dentro, facciamo un return meno 1. Questo viene chiamato magari a seguito di un errore o di una situazione particolare e quindi mi butta immediatamente fuori dalla funzione. L'utilizzo di return ci permette di definire tre tipi di funzioni. Abbiamo in C delle funzioni che fanno un calcolo. Tipo la funzione somma, questa riceve dei parametri, esegue un calcolo e alla fine restituisce il valore di questo calcolo. Quindi questo è il primo tipo. Il secondo tipo sono delle funzioni che hanno una qualche utilità, manipolano delle informazioni, però restituiscono sì un valore di solito intero. E questo qui è il risultato dell'elaborazione. Quindi se è andata bene o è andata male. Questo risultato può essere utilizzato oppure no, dipende, ma indica solo se è andato bene oppure no l'elaborazione. Abbiamo poi un terzo tipo, che sono quelle di tipo void. Sono delle procedure. Cioè eseguono qualcosa e non restituiscono nulla. In questo modo non sapremo che cosa è accaduto. Di solito una di queste procedure che viene usata anche al sistema è la exit, anche se si può passare di un parametro. Comunque è qualcosa che viene chiamato e ovviamente avendo scarsa indicazione di quello che capita e non restituendo niente, sono un po' da usare con cautela perché potreste non sapere bene quello che è accaduto. Un'altra cosa che riguarda le funzioni, ma penso che sia abbastanza evidente, non possiamo mai assegnare un valore a una funzione. Questa è una cosa stranissima. Immaginate di avere una funzione che fa somma di a e b, non potremo mai vedere una roba del genere. Quindi vuol dire che sto assegnando alla funzione un valore. Questo qua non ve lo fa neppure compilare, ma mi pare abbastanza scontato. Per oggi è tutto, non aggiungiamo nient'altro. La prossima volta parleremo di prototipi di funzione. Vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo domani. Ciao! Ciao!